Non è stata per fortuna un'altra Genova, ma la paura è stata tanta e in questo caso, a differenza di quanto accaduto in Liguria, la protezione civile dell'Emilia-Romagna aveva previsto tutto con un'allerta meteo che era stata prolungata proprio nel tardo pomeriggio di ieri, dopo l'allarme che già era stato lanciato giovedì. E il nubifragio, insistente, durato per quasi un'ora, si è puntualmente abbattuto nella notte in alta Valtaro. La pioggia ha provocato danni ingenti senza che per fortuna nessuna persona sia rimasta ferita. La bomba d'acqua ha creato pesanti disagi soprattutto nelle zone di Bedoni e Compiano, torrenti e canali esondati e un vorticoso fiume d'acqua che in località Alpe di Bedoni ha invaso scantinati e garage trascinando anche verso valle alcune auto. Poi l'esplosione di tubature dell'acqua e conseguenti ulteriori allagamenti. Gravi danni nella zona di Bedonia, nella frazione di Sugremaro, il livello dell'acqua ha raggiunto le aziende della zona artigianale. L'allarme è scattato in piena notte, al lavoro, squadre dei vigili del fuoco di Parma e Borgotaro con in più numerosi volontari della protezione civile. Ora c'è la conta dei danni, anche se per fortuna l'emergenza meteo è definitivamente rientrata nella tarda mattinata.